ciao bentornate e bentornati sul canale questo è il secondo video di meccanica quantistica e di come si è sviluppata a livello storico oggi parliamo dell'effetto foto elettrico e ci aiuteremo a capirlo bene con questo simulatore ma prima facciamo una piccola introduzione storica anzitutto parliamo di luce che cos'è la luce questa è una domanda che l'umanità si chiesta fin dall'antichità ma le prime risposte basate su metodo scientifico cioè sull'osservazione di fatti sperimentali in particolare sull'osservazione di riflessione e rifrazione della luce risalgono alla seconda metà del diciassettesimo secolo cioè la seconda metà del 1600 isaac newton propose un modello corpuscolare della luce cioè la luce fatta di piccole particelle piccoli corpuscoli invece christian huggins propose un modello ondulatorio cioè la luce è un'onda come mai due diverse conclusioni per il semplice fatto che riflessione rifrazione della luce possono essere spiegati molto bene sia col modello corpuscolare sia con quello ondulatorio della luce in sostanza non riuscirono a venirne a capo sebbene prevalse il modello di newton forse perché lui era una persona più autorevole aveva fatto tante scoperte nel campo dell'ottica forse perché il modello corpuscolare sembrava più convincente sicuramente questa conclusione non era una conclusione che si rifaceva al metodo scientifico perché la scienza si deve basare sulle osservazioni e infatti oltre un secolo dopo vennero realizzati diversi esperimenti che mostravano che la luce aveva una natura ondulatoria primo fra tutti il fenomeno della doppia fenditura l'esperimento di yang avvenuto nel 1801 infatti yang ha mostrato anzitutto che quando la luce passa attraverso una o più fenditure si allarga a semisfera e questo fenomeno si chiama diffrazione che è tipico delle onde spesso le spiagge o più in generale i golfi ad una forma ad arco di circonferenza proprio perché le onde del mare tendono ad assumere quella forma per effetto della diffrazione e inoltre le onde una volta difratte tendono a sommarsi per interferenza costruttiva e distruttiva che è un fenomeno tipicamente ondulatorio inoltre nel 1820 nasce l'elettromagnetismo cioè si capisce che campi elettrici e campi magnetici possono interagire che culmina nella seconda metà del 1800 con le equazioni di maxwell la cui soluzione porta alla dimostrazione che la luce un'onda elettromagnetica e inoltre le onde elettromagnetiche vengono prodotte sperimentalmente da hertz quindi avevamo la teoria avevamo l'esperimento alla fine dell'ottocento erano tutti straconvinti che la luce fosse un'onda in particolare un'onda elettromagnetica e questa convinzione in effetti non è errata perché adesso faccio uno spoiler ma la capire che a livello microscopico i fenomeni a volte si presentano come ondulatori a volte come corpuscolari a seconda del tipo di esperimento che facciamo e casualmente tutti questi esperimenti portavano a mostrare la natura ondulatoria della luce però ci sono anche degli esperimenti che ne mettono in evidenza una natura corpuscolare e nel video precedente abbiamo visto lo studio dello spettro di emissione del corpo nero che ha portato alla costante h di planck non mi dilungo ulteriormente sul corpo nero perché c'è un video dedicato che potete trovare nella playlist f6 ora invece vediamo un secondo fenomeno che mette in evidenza la natura corpuscolare della luce che è l'effetto fotoelettrico anzitutto vediamo che cos'è l'effetto fotoelettrico è un fenomeno molto semplice da capire è fatto di due parole foto cioè luce ed elettrico cioè elettroni e dice che se prendete un metallo e lo colpite con una radiazione elettromagnetica di frequenza sufficientemente elevata questo metallo emette elettroni ad esempio se prendete una lampada a raggi ultravioletti che è una radiazione con frequenza elevata e con questi raggi ultravioletti colpite una superficie metallica questo emette elettroni chiaramente questi elettroni non sono visibili occhio nudo quindi magari voi non potete vederli ma possono essere rivelati perché se vengono raccolti su un'altra piastra metallica la caricano negativamente invece quella che ha ceduto elettroni si carica positivamente e quindi se queste due piastre vengono messe in contatto si può sviluppare una corrente elettrica perché gli elettroni fluiscono dalla piastra negativa alla piastra positiva l'effetto fotoelettrico è stato scoperto da hertz nel 1886 proprio mentre cercava di generare e rivelare onde elettromagnetiche che pubblicò i suoi risultati nel 1887 nei due anni successivi alcuni personaggi illustri effettuarono esperimenti sull'effetto fotoelettrico ricordiamo all walks righi j j thompson ma è solo nel 1902 che philip lehnard fece uno studio più approfondito e sistematico e fece alcune osservazioni e queste osservazioni andavano contro i risultati previsti dalle dalle onde elettromagnetiche di maxwell quindi ripeto dalla teoria dell'elettromagnetismo ci si aspettava certi risultati invece questi erano molto diversi il problema rimase aperto per tre anni quando nel 1905 albert einstein interpretò i risultati riprendendo l'idea di planck della costante di planck e quindi la sua interpretazione era basata sul fatto che le onde elettromagnetiche potessero essere quantizzate cioè potessero presentarsi in pacchetti discreti e einstein introdusse il concetto di quanto di luce che poi successivamente venne chiamato anche fotone quindi lo scopo di questo video è vedere quelle osservazioni ha fatto lehnard aiutandoci col simulatore capire perché erano in contrasto con l'elettromagnetismo classico e vedere qual è stata la risposta di einstein e infine una decina di anni dopo tra il 14 e il 16 il fisico sperimentale robert millican effettuò degli esperimenti simili a quelli di lehnard ma più accurati che confermarono le ipotesi di einstein quindi osserviamo l'esperimento abbiamo una piastra illuminata da una lampada qui abbiamo l'intensità che a zero la possiamo aumentare e aumentando vediamo che questa piastra emette elettroni gli elettroni colpiscono una seconda piastra e quindi sviluppano corrente elettrica cioè gli elettroni spontaneamente ritorneranno alla piastra che ha ceduto elettroni e quindi qua si può leggere il valore della corrente elettrica notate che qui c'è una batteria anche però al momento su zero volt quindi è come se questa batteria non ci fosse infatti la corrente non è data dalla batteria ma è data dalla differenza di potenziale che si crea tra le due piastre perché una cede elettroni e l'altra assorbe elettroni notate che la lampada ha due regolazioni io posso modificare l'intensità cioè la quantità di radiazione che raggiunge la piastra ma posso anche modificare la frequenza ovvero il colore della luce posso passare dal viola al blu al verde quindi sto diminuendo la frequenza al giallo al rosso e infine arrivare nell'infrarosso che è una frequenza ancora più bassa che non è più visibile oppure posso aumentare la frequenza tornare al blu al viola per poi passare all'ultravioletto notate che nell'ultravioletto abbiamo un grande effetto fotoelettrico se io diminuisco la frequenza l'effetto fotoelettrico diminuisce fino a scomparire del tutto cioè esiste una frequenza di soglia al di sotto della quale l'effetto fotoelettrico non avviene più anche se metto l'intensità al massimo al cento per cento anche se aspetto molto tempo non c'è effetto foto elettrico ogni metallo una sua frequenza di soglia in questo caso usato il sodio posso cambiare mettere ad esempio zinco e lo zinco avrà un'altra frequenza di soglia con la luce rossa credo che quasi nessun metallo emetta però posso alzare la frequenza e vedere che un certo punto ecco ancora nulla però arrivato all'ultravioletto abbiamo effetto fotoelettrico se la rimetto sul viola non c'è effetto fotoelettrico ma se al posto dello zinco metto il sodio abbiamo di nuovo effetto fotoelettrico perché la frequenza di soglia cambia in base al tipo di metallo io posso anche bloccare questi elettroni invertendo la polarità della batteria quindi in pratica creo un potenziale che attira gli elettroni verso la piastra di sinistra si chiama potenziale dal resto il minimo potenziale in grado di bloccare il flusso di corrente elettrica ad esempio qua abbiamo meno 2,40 volt ma se io metto ad esempio meno 0,40 osserviamo che ho corrente elettrica ma con meno 0,80 ho ancora un po di corrente elettrica con meno 1 con meno 1 non ho corrente elettrica quindi il potenziale del resto del sodio con una frequenza di 384 nanometri e circa un volt ma osserviamo che se aumento la frequenza quindi vado a 100 nanometri ho diminuito la lunghezza d'onda quindi ho aumentato la frequenza notate che anche con meno un volto corrente elettrica quindi il potenziale del resto dipende oltre che dal metallo anche dalla frequenza della luce ora facciamo un riepilogo di quello che abbiamo osservato e cerchiamo di capire perché queste osservazioni erano in contrasto con la teoria classica dell'elettromagnetismo e della luce come onda elettromagnetica la prima cosa che abbiamo visto che forse anche la più importante è che si ha emissione di elettroni solo se la frequenza della radiazione incidente raggiunge o supera la frequenza di soglia questo fatto non era spiegabile con le onde elettromagnetiche perché secondo le leggi dell'elettromagnetismo l'intensità di un'onda elettromagnetica dipende dal quadrato dell'ampiezza dell'onda l'ampiezza è la distanza che c'è tra il massimo e il punto centrale cioè in pratica tra il massimo e il minimo c'è due volte l'ampiezza e questa cosa qua che ho indicato con e con zero e sta per campo elettrico e infatti l'intensità dell'onda media perché l'onda variando cambia la sua intensità l'intensità è grande quando l'ampiezza è grande ed è nulla quando l'ampiezza è zero però il valore medio è uguale a un mezzo per la costante di elettrica del vuoto che quindi è una costante per c che è la velocità della luce che è un'altra costante per l'ampiezza del campo elettrico alla seconda ora il fatto che la luce sia rossa o viola non dovrebbe centrare nulla perché le due onde hanno la stessa ampiezza o cioè potrebbero avere la stessa ampiezza non è la frequenza che conta tra il rosso e il viola cambia la frequenza cioè nello stesso tempo l'onda viola si ripete più volte vedete l'onda viola raggiunge due massimi in un tempo minore mentre l'onda rossa raggiunge questi due massimi in un tempo maggiore vedete sull'asse delle ascisse c'è la t di tempo quindi in un secondo la luce viola fa più oscillazioni della luce rossa e questo non dovrebbe centrare nulla con l'intensità della radiazione e quindi per la luce rossa per la luce viola dovremmo aspettarci lo stesso effetto fotoelettrico altro fatto sperimentale riguarda il potenziale d'arresto infatti a parità di metallo qui usato in entrambi i casi sodio se cambio la frequenza cambia il potenziale d'arresto guardate qua ho riscritto i valori un pochino più grandi la pila è settata su meno 0,40 volte questa è settata sullo stesso valore però si utilizza una luce azzurra da 486 nanometri allora questo potenziale è sufficiente ad arrestare gli elettroni invece se aumento la frequenza quindi se diminuisco la lunghezza d'onda 400 nanometri questo potenziale non riesce più a fermare gli elettroni è come se gli elettroni acquisissero una maggiore energia cinetica all'aumentare della frequenza se ritornate all'animazione infatti potete osservare che aumentando la frequenza escono più velocemente invece per lo stesso discorso che abbiamo fatto prima secondo l'elettromagnetismo classico l'energia cinetica degli elettroni dovrebbe dipendere dall'intensità di radiazione vedete entrambi hanno un'intensità del 100 per cento e quindi dovrebbe esserci lo stesso potenziale d'arresto perché è l'intensità di radiazione che dà l'energia non la frequenza almeno secondo l'elettromagnetismo classico un terzo ultimo fatto sperimentale che non trovava spiegazione era che l'effetto foto elettrico fosse istantaneo cioè appena la luce colpiva la piastra e se metteva elettroni anche con intensità molto basse invece secondo le leggi classiche dell'elettromagnetismo occorreva un certo tempo e minore era l'intensità maggiore doveva essere il tempo perché l'energia veniva fornita con continuità invece qui abbiamo due esempi intensità al 40 per cento intensità al 100 per cento in entrambi i casi l'effetto foto elettrico osservato è istantaneo è stato albert einstein a fornire una spiegazione di questi effetti quindi siamo nel 1905 einstein aveva solo 26 anni e oltretutto lo stesso anno in cui ha pubblicato la teoria della relatività ristretta e la spiegazione di einstein in estrema sintesi era basata sul fatto che la luce si propagasse in pacchetti indivisibili in quanti di luce o fotoni e non con continuità ma a blocchi come dirà pacchetti e ognuno di questi pacchetti aveva un'energia proporzionale alla frequenza per tutti i motivi che abbiamo visto prima quindi introduce la formula dell'energia del fotone che uguale ad h per f o meglio più che introdurla la riprende da planche perché questa è l'ipotesi di planche per la spiegazione del corpo nero ecco einstein estende questa interpretazione all'effetto foto elettrico e quindi a cosa è dovuta l'energia cinetica degli elettroni che escono dalla piastra l'energia cinetica degli elettroni che uguale a un mezzo massa per velocità al quadrato è data dall'energia del fotone che h per f costante di planche per frequenza meno il lavoro di estrazione perché questi elettroni si trovano legati a degli atomi quindi parte dell'energia del fotone viene utilizzata per rompere questi legami questo è il lavoro di estrazione la parte che rimane è energia cinetica dell'elettrone per semplificare se il fotone ha un'energia di 10 in una certa unità di misura e l'energia di legame dell'elettrone 2 allora di quei 10 2 vanno a essere utilizzati per rompere il legame e gli altri 8 saranno energia cinetica dell'elettrone e quindi perché c'è una frequenza di soglia perché se h per f cioè se l'energia del fotone è minore del lavoro di estrazione allora non si ha effetto foto elettrico quindi da questa semplice spiegazione si capisce 1 perché c'è una frequenza di soglia 2 perché aumentando la frequenza aumenta l'energia cinetica degli elettroni e 3 perché il fenomeno istantaneo perché appena il fotone colpisce l'elettrone istantaneamente questo viene sputato fuori non c'è bisogno di aspettare quindi la spiegazione di Einstein spiegava i fenomeni osservati e ciò nonostante la comunità scientifica aveva ancora molto scetticismo verso questa nuova interpretazione proprio perché in tutto il 1800 tutti gli esperimenti e la teoria portavano verso una natura ondulatoria della luce tra i detrattori della dell'interpretazione di Einstein c'era anche Robert Millikan il quale era poco convinto dall'esistenza di questi fotoni e fece degli esperimenti molto accurati eppure i suoi esperimenti confermarono l'interpretazione di Einstein perché nella scienza gli esperimenti non è che dimostrano sempre ciò che uno spera di ottenere o pensa di ottenere ma a volte l'esito è anche inaspettato e ironia della sorte Millikan vinse il premio Nobel per questo studio e anche per un altro che l'ha reso celebre ma comunque vinse il premio Nobel per delle conclusioni che lui non si aspettava che cosa misurò nello specifico Millikan misurò una cosa che aveva già visto Leonard ma con una precisione maggiore ovvero misurò il potenziale dal resto rispetto alla frequenza quindi sull'asse x abbiamo la frequenza in unità di 10 alla 14 hertz e sull'asse y non abbiamo i volt del potenziale dal resto questo punto iniziale la frequenza di soglia quindi sotto questa frequenza non c'è effetto fotoelettrico e quindi non c'è bisogno del potenziale dal resto aumentando la frequenza si vede che il potenziale dal resto cresce in maniera lineare quindi se esprimiamo il potenziale dal resto in funzione della frequenza otteniamo l'equazione di una retta se ora riprendiamo l'interpretazione di Einstein ovvero l'energia cinetica del fotone un mezzo mv2 è uguale all'energia del fotone meno il lavoro di estrazione e al posto di un mezzo mv2 mettiamo la carica dell'elettrone per il potenziale dal resto questo perché perché stiamo ponendo l'energia cinetica uguale all'energia potenziale carica per potenziale dall'energia potenziale e se v con 0 è proprio il potenziale minimo per fermare l'elettrone allora vuol dire che l'energia potenziale deve essere uguale all'energia cinetica quindi la carica dell'elettrone per il potenziale dal resto v con 0 è uguale ad h per f dove f è la frequenza e h è la costante di Planck meno il lavoro di estrazione dividendo tutti i termini per la carica dell'elettrone si ottiene che v con 0 è uguale ad h fratto e per f meno il lavoro di estrazione fratto e abbiamo detto che il grafico è una retta e quindi possiamo confrontare questa formula con la formula della retta ovvero y uguale mx più q dove m è il coefficiente angolare della retta e confrontando le due equazioni mettendo x al posto di f perché la frequenza sull'asse x y al posto di v perché i volt sono sull'asse y si vede che il coefficiente m è uguale ad h fratto e ovvero h è uguale alla carica dell'elettrone e per il coefficiente angolare m da quest'ultima formula possiamo calcolare la costante di Planck al posto di e mettiamo la carica dell'elettrone che 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb al posto di m mettiamo delta y su delta x che è così che si calcola il coefficiente angolare di una retta cioè la variazione delle y fratto la variazione delle x presi due punti a caso della retta io ho preso questi due ora questo grafico riporta alcuni dei valori ricavati da millican io non ho trovato la tabella con i valori però li ho dedotti dal grafico più o meno guardando e come delta y ho preso questi due punti mi è venuto 2,85 meno 0,9 volt perché se guardate l'ordinata di questo punto mi sembrava tra 2,8 e 2,9 quindi ho preso 2,85 e questo mi sembrava circa 0,9 mentre sotto ho messo la variazione delle x qui andiamo da circa 12,5 vedete siamo tra 12 e 13 e qui siamo un po prima dell'8 messo 7,8 quindi facendo queste due differenze moltiplicando alla fine si ottiene 3,12 fratto 4,7 per 10 alla meno 33 10 alla meno 33 perché abbiamo un 10 alla meno 19 diviso 10 alla quindi dobbiamo sottrarre gli esponenti meno 19 meno 14 fa meno 33 facendo questa divisione si ottiene 0,664 per 10 alla meno 33 che può essere approssimato a 6,6 per 10 alla meno 34 le unità di misura sono coulomb della carica per volt fratto hertz ma coulomb per volt sono joule invece hertz a denominatore sono uguali a secondi quindi in definitiva abbiamo ottenuto come valore della costante di plank 6,6 per 10 alla meno 34 joule per secondi il valore conosciuto oggi è molto più preciso ma vedete che è corretto 6,62607015 per 10 alla meno 34 joule per secondi tra l'altro non è corretto dire che il valore che conosciamo oggi è più preciso perché il valore di oggi è il valore esatto senza alcun errore e come è possibile questa cosa è possibile perché la costante di plank dal 2019 utilizzata per definire il chilogrammo fino a qualche anno fa il campione di riferimento era un campione di platino iridio conservato mi sembra al museo di parigi invece da qualche anno a questa parte si utilizza la costante di plank e come si fa beh l'unità di misura della costante di plank è joule per secondi ma può anche essere scritta come chilogrammo per metro quadro fratto secondo infatti se prendiamo ad esempio la formula dell'energia cinetica e mettiamo le dimensioni fisiche al posto dell'energia mettiamo joule al posto della massa chilogrammi e al posto della velocità al quadrato metri al quadrato fratto secondi al quadrato allora joule per secondi è uguale a questo semplificando i secondi quindi chilogrammi per metro quadro fratto secondo quindi la costante h è legata ai chilogrammi ed è utilizzata appunto per definire il chilogrammo concludo con una piccola nota storica perché se non c'è il rischio che da questo video possano scaturire dei malintesi infatti millican ha fatto due esperimenti e il nobel gli è stato assegnato per due celebri esperimenti e spesso quando si parla di esperimento di millican non si fa riferimento all'effetto fotoelettrico ma a quest'altro esperimento finalizzato alla misura della carica elettrica dell'elettrone e per questi due suoi lavori vinse il premio nobel nel 1923 e riporto qui una frase divenuta celebre che millican pronunciò in occasione della sua lezione per il premio nobel in cui disse che si può dire senza esitazione che l'equazione di einstein sta avendo un successo straordinario però finché essa non spiegherà i fatti dell'interferenza dobbiamo trattenerci dal dare il nostro pieno assenso infatti ci vogliono ancora anni per capire che a livello microscopico la natura può manifestarsi sia a livello ondulatorio sia a livello corpuscolare a seconda di che cosa si va a guardare ed erano in molti a pensarla come millican infatti per diversi anni la posizione di einstein incontra molte resistenze fino a quando nel 1924 arthur holly compton con un celebre esperimento dimostrò definitivamente l'esistenza dei fotoni e ottenne il premio nobel nel 1927 e l'esperimento di compton noto appunto come effetto compton sarà l'argomento del prossimo video quindi rimani collegato stay tuned e ci vediamo alla prossima